Da Ballando con le stelle ad amici. Un messaggino di Selvaggia Lucarelli per Alessandra Celentano. Sassolino dalla scarpa. Ad esibirsi questa sera è una giovanissima danzatrice, Aurora Nobile, campionessa italiana. . La sedicenne di Michelinu, ha un fisico da urlo e molto muscoloso. Dopo l'esibizione della ballerina, Selvaggia Lucarelli prende parola. In altri programmi dicono che le ballerine devono essere magre, lei, con quella carne, era B-E-L-L-I-S-S-I-M-A aperte virgolette. La frecciatina è ovviamente rivolta alla maestra Alessandra Celentano che, ogni anno ad amici, ribadisce la necessità di una forma fisica e in linea per ogni ballerina professionista. Nonostante il pensiero della Celentano sia esclusivamente un giudizio professionale, e non privato, le sue dichiarazioni sollevano sistematicamente polemiche tra il pubblico. . Selvaggia Lucarelli e le questioni peso, punto Poteva mai la Lucarelli non rispondere? Millie non commenta e va avanti. Il pubblico applaude? La Lucarelli ha spesso fatto sentire la sua voce in merito alle questioni legate alla bilancia. Lo scorso anno si è schierata in difesa di Vanessa Incontrada, ingiustamente criticata per il suo peso corporeo. . Tagliente e pungente come sempre, Selvaggia Lucarelli, direttamente da Ballando, difende stasera la ballerina Laura Endi Amici, dopo quanto accaduto lo scorso sabato. . Ad Amici Maria De Chilippi fa ballare le ballerine curvi, punto E mentre Selvaggia Lucarelli non perde occasione per lanciare una frecciatina al programma concorrente, nel corso della stessa serata Maria De Chilippi decide di dare una lezione ad Alessandra Celentano. . La conduttrice fa esibire ad Amici un gruppo di ballerine curvi, guidato dall'americana, Akira Armstrong, apparsa anche in un video di Beyoncé. . Il pubblico apprezza così tanto che il gruppo si esibisce ben due volte. Nel corso della seconda esibizione si intromettono pure Alessandra Amoroso e Giulia Michelini, che fanno parte della commissione esterna del Talentshow. . . .